Parliamo di Anatomia di una caduta, film appunto che mi ha mandato CG Entertainment, l'ha fatto uscire in Blu-ray Si vede molto bene tra l'altro Anatomia di una caduta, famoso ormai, famoso perché ha vinto la Palma d'Oro Insomma ne stanno parlando in tanti, ne hanno parlato in tanti ed è un thriller, i thriller piacciono La regista è Justin Triet e parla di questa famiglia che vive in montagna, di scrittori Lei e lui scrittori, insomma lui è uno scrittore che non ce l'ha fatta Lei è una scrittrice che ce la sta facendo Hanno un figlio che ha avuto un incidente e ha perso la vista Cercherò di non fare spoiler così potrete godervelo A un certo punto il marito vola giù dalla finestra, non si sa come, non si sa perché Batte la testa, muore, viene incriminata la moglie Questo è quello che si sa, quindi non è spoiler, non è, cioè si vede nel trailer, insomma è la sinossi del film Allora, Anatomia di una caduta è un film che potrebbe far storcere il naso a chi si aspetta qualcosa di moderno In realtà è un film moderno perché è girato veramente molto bene e in modo molto intelligente Però è un film che si rifà Anatomia per un omicidio Anatomia di un omicidio Che è un vecchio film, come dire, giudiziario Cioè si svolge gran parte del film all'interno del processo Quindi anche questo film in buona parte, anzi in una parte molto abbondante, si svolge all'interno del processo È un film dove si parla tantissimo, è un film di parole, è un film di dialoghi È un film in cui le parole sono fondamentali, in cui il potere delle parole è fondamentale Il significato di ogni singola parola E anche la lingua, la lingua che parli ha un'importanza incredibile Perché in questo film, appunto, che si chiama Anatomia di una caduta In realtà si fa un'autopsia di una coppia Nonostante la coppia ormai non esista più perché, appunto, il marito è morto Il processo diventa una sorta di autopsia psicologica, emotiva Di una coppia di persone belle che si sono innamorate Che col tempo si sono inaridite Si sono create delle gelosie, ci sono stati dei tradimenti Ci sono state delle cose che hanno inasprito un bellissimo rapporto Come tantissimi rapporti che nascono, sono belli e poi piano piano diventano così Il processo diventa quasi un'autopsia di questa relazione Un'autopsia cruda proprio, una cosa potente Proprio per le parole che vengono usate, le parole che vengono dette Ed è molto importante vedere questo film in lingua originale Anche proprio perché, appunto, in queste dinamiche di conflitto Tra lei e il marito ci sono due linguaggi differenti Il marito è francese Lei, non mi ricordo le origini, ma appunto non parla francese Quindi tra di loro hanno sempre parlato in inglese Lei deve affrontare un processo in francese Per essere più convincente, ma ha difficoltà a farlo E quindi io mi chiedo come si possa guardare questo film in italiano Secondo motivo per cui non guardarlo doppiato È che gli attori sono bravissimi Sono fenomenali È qualcosa che rasenta la perfezione alla recitazione di questo film È uno dei film recitati meglio che ho visto negli ultimi anni Non hai l'impressione di vedere una messa in scena Hai l'impressione di vedere persone reali E tutti sono estremamente bravi Compreso il figlio, che è un bambino abbastanza piccolo Ho trovato il film in realtà diretto molto bene Asciutto, intelligente Sofisticato nei passaggi Nei passaggi tra un momento e l'altro Perché è un film fatto di momenti C'è una scena di un'intervista C'è la scena del ritrovamento C'è la scena del processo C'è la scena della preparazione al processo E proprio nei passaggi ho trovato elegante il montaggio E la regia di questo film Ma soprattutto c'è un momento Che non vi spoilererò Che se state attenti Siete concentrati dentro questo film Riuscirà un po' a sorprendervi Perché per quanto sappiate Che state vedendo un flashback A un certo punto Ritornerete tutto ad un colpo Nella sala Insomma in quest'aula In cui si tiene il processo E quindi insomma sarà un po' traumatico Perché comunque Quello che viene fuori È qualcosa di estremamente duro Quello che viene fuori Dalle vite di questi due coniugi Che stanno cercando oltretutto Di crescere un figlio Che ha subito una menomazione Appunto alla vista Per me è un grandissimo film È un film eccezionale Ma è un film Che parla un linguaggio diverso dal solito È un film che veicola Tutta la sua forza Attraverso le parole Attraverso come vengono pronunciate In che lingua Con che tono E il significato Della parola stessa È molto importante In questo film Quindi Anche proprio per non perdervi Il significato È meglio che lo guardiate In lingua originale Io l'ho trovato Personalmente Dal punto di vista emotivo Un film Molto bello Perché comunque Ho una certa età Sono adulto C'ho un figlio Insomma più o meno Mi trovo in una situazione Grazie al cielo Non simile Però posso capire Un sacco di cose Che ci sono in questo film Mi rendo conto Che chi È molto più giovane E non ha visto Tutto quello che Può vedere una persona Di 40-50 anni Non ha passato Delle cose Troverà questo film Un po' Distante da lui Un po' incomprensibile Se invece Siete un po' più adulti È un film molto forte In cui potete riconoscere Tantissime cose E quindi può essere Anche molto toccante Che altro dire Sono molto contento Di averlo visto E sono molto contento Che questo film Cosa che Che capita spesso Mi ha fatto venire voglia Di vedere Anatomia di un omicidio Con James Stewart Del 59 Quindi Otto Prieminger Questo è tutto E quindi Grazie a tutti